e qua come vedete vedremo le due fuciliere adesso entreremo nella roccia e andremo a vedere il fortino all'interno qui al passo dell'ampola c'era anche dalla parte della strada di là un altro esempio di fuciliere che vedete dall'altra parte serviva per lo sbarramento della strada adesso andiamo avanti Carlo è già entrato e io vi porterò all'interno di questo piccolo manufatto vedete girato e qua ci sono le due cannone dove vedete si vede ancora la strada ok questa la seconda vedete siamo arrivati